Andiamo ora a configurare, nonostante ci sia configurato il RIP, l'OSPF, quindi per configurare l'OSPF facciamo direttamente come abbiamo fatto in precedenza, quindi usciamo completamente fuori, ok? Quindi andiamo a scrivere quella che è la sintassi per l'OSPF, quindi enable conf t, router ospf, 1, dobbiamo indicare qual è il process id, network, qui le network di riferimento quali saranno? Beh, in realtà posso prendere direttamente queste network di riferimento, ma dovrò andare a inserire qui la wildcard, quindi 0.0.0.255 area 0, qui in questo caso sarà 0.255.255.255 area 0, qui invece sarà 0.255.255.255 area 0. Vediamo se effettivamente è tutto a posto, quindi facciamo un paste da questa parte No, do show ip root Ovviamente qui non vedo ancora niente Facciamo la stessa cosa adesso sul router R5, quindi riprendiamo quella che era la configurazione che avevamo fatto sul router R5 per RIP, che era questa, e la modifichiamo Router OSPF 1, quindi qui dovremmo fare 0.255, no scusate, 0.0.255 area 0, facciamo un primo copia e incolla così, e poi facciamo il copia e incolla di tutto questo Quindi anche in questo caso possiamo andare direttamente sul nostro router R5 Uscire completamente Ok, paste Do show ip root Allora, vediamo un po', ancora non si è propagato nulla Vediamo se sta funzionando, ecco qui, si sta propagando, qui vediamo che l'advertise della rotta è avvenuto Quindi se adesso facciamo do show ip root, perfetto, otteniamo questo Facciamo la stessa cosa adesso sul router R2, quindi anche in questo caso usciamo completamente Prendiamo in esame, dunque dovrebbe essere questo, sì, esatto Modifichiamo anche in questo caso con OSPF 1 Area 0 E qui prendiamo esattamente queste informazioni Quindi, ok Ci troviamo quindi sul router R2 Facciamo il paste Show ip root Perfetto, sta avvenendo l'advertise Di tutto, con calma Ecco qui, l'OSPF è arrivato Qui come possiamo vedere, OSPF 110 110 perché ha un administrative distance che è differente E qui abbiamo le metriche Che sono differenti ovviamente perché la metrica in questo caso non è più il numero di hop Qui sapevamo che avevamo configurato in precedenza il router, il RIP come routing dinamico anche Come possiamo renderci conto di questa cosa? Beh, se facciamo lo show run, effettivamente qui possiamo vedere che abbiamo esattamente Ecco qui Il router OSPF 1 configurato ma anche il router RIP Quindi nel momento in cui andassimo a cancellare il router OSPF 1 sarebbe comunque valido il router RIP Ovviamente in questo caso ha priorità OSPF perché ha un administrative distance più bassa rispetto a quella del router RIP E' la Banca chords in questo caso non è più difficile